buongiorno a tutti benvenuti a un nuovo appuntamento di gazzetta concorsi in compagnia del prof giuseppe cotruvo oggi parleremo di alcuni bandi pubblicati e non ancora pubblicati sulla gazzetta ufficiale daremo qualche aggiornamento sulle graduatorie uscite e negli ultimi giorni come sapete ad esempio è uscita quella per il concorso 2293 profilo am e daremo qualche indicazione su come preimpararsi alle prove che arriveranno del concorso snag tutti questi consigli questa informazione utili ci del ce le darà il nostro caro giuseppe cotruvo che è in diretta con noi buongiorno prof buongiorno allora grazie federica grazie alberto e andiamo subito su non ci sono tante notizie eclatanti oggi comunque sia sul mille proprio che c'è stato un articolo di legge oggi che ha ripreso un po' di novità anche se relative al mondo dei concorsi e in modo particolare si dice per conto riguarda le assunzioni nell'amministrazione pubblica sono prorogate a fine 2023 le autorizzazioni del mef ad assumere un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'area terza posizione economica f1 per rafforzare le strutture della ragioneria generale dello star e a bandire procedure concorsuali per l'assunzione al tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale da destinare alle ragionerie territoriali dello stato in misura di 450 posti e alle commissioni tributarie in misura di 100 posti poi viene prorogato a fine 2023 il termine entro il quale il ministero dell'economia e delle finanze ha utilizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e residenza quindi qualche novità diciamo in vista per futuri concorsi mef o comunque assunzioni da parte del ministero dell'economia e poi ancora ci sono altre disposizioni riguardanti il ministero dell'interno ovvero si estende al 2023 il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale della carriera prefettiva prefettizia è di livello dirigenziale sulla carriera prefettizia c'è un bando del duemiladiciannove oggi di lì duemiladiciannove duemilaventi quello per 200 posti ehm per il quale sono state espletate le prove scritte quindi sia presa lezione che prove scritte ed è in atto la conclusione della collezione delle prove scritte e poi ci saranno le prove orali e in più si attende di conoscere il calendario della presa lezione del dell'altro bando che è stato pubblicato quello per 180 posti credo pubblicato nel duemilaventuno non voglio dire che una fesseria o in duemilaventidue ehm c'è il bando per centottanta posti di cui ancora deve mh devono svolgere le prove preselettive poi l'espletamento di alcune procedure concorsuali già autorizzate dal DPCM eccetera eccetera e eh per il triennio duemilaventi duemilaventidue per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia va bene questo prima non l'abbiamo detto e poi autorizzazione ad assumere trenta unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il ministero dell'interno si tratta del personale destinato alle attività di gestione e regolazione monitorare insomma sempre cose che hanno a che fare con il PNR poi dalla gazzetta ufficiale concorsi di concorsi ce ne ce ne sono tanti come al solito voi spesso mi chiedete il grande concorso ci saranno anche grandi concorsi però nel frattempo non dimenticate andate a cercare insomma qualche concorso nella zona eh che magari anche in una zona a voi vicina in termini di residenza e probabilmente troverete qualcosa ci sono molti concorsi eh interessanti vediamo un po' se ne becchiamo qualcuno eh questi sono quelli delle università e anche le università ogni tanto mh bandiscono procedure per profili mh amministrativi ad esempio della città metropolitana di Bologna c'è un concorso per la per la copertura di un posto di amministrativo contabile molti dicono ma è solamente un posto provatelo provatelo perché eh è accaduto anche per alcuni di questi concorsi che sono rimasti dei posti vacanti e poi comunque eh le regalatorie anche quando sono per pochi posti poi spesso ci sono degli scorrimenti importanti quindi diciamo è importante anche eventualmente eh acquisire una idoneità che eh potrebbe eh risultare importante in termini di assunzione eh comune di Arzachena che è molto caro alla dottoressa Argelli per motivi che non posso dire però comunque molto caro alla dottoressa Argelli che dice concorso per la copertura di tre posti di istruttore di vigilanza comune di Bari questo è un concorso per ventidue posti da insegnante di scuola dell'infanzia comune di Bologna di di Bergamo selezione pubblica per un posto di istruttore dirittivo amministrativo eccetera guardate ce ne sono davvero tanti quindi andate lì a vedere non eh non perdo tempo non vi annoio eh elencando tutti quanti i bandi di concorso che ci sono quindi approfittate anche di queste occasioni anche solo come dico spesso come forma di allenamento in vista di eh una nuova procedura eh di una procedura concorsuale con una previsione più consistente di posti nel frattempo approfitto di questo webinar visto che insomma non non ci sono tante novità e eclatanti per parlare di un po' di eh novità tra un po' la dottoressa Argelli vi parlerà del concorso ASNEL di cui non l'abbiamo parlato eh nel precedente webinar e quindi vi darà un po' di indicazioni nel frattempo vi passare la eh parola alla dottoressa Argelli ehm per agenzia delle entrate molti mi stanno continuano a chiedere ma quanti posti ci saranno nelle regioni del sud? Allora intanto volge ormai alla conclusione eh volgono la conclusione delle prove orali del eh bando per duemila trecentoventi posti hanno concluso in quasi tutte le regioni mancano ancora credo pochi turni di di prova e ehm ehm quello che ehm è trapelato eh data a fonti sindacali eh io non ho un documento ufficiale da mostrarvi però mi è stato letto che l'orientamento dell'agenzia è quello ad assumere anche non solo i vincitori ma anche gli idoni non vincitori nelle regioni in cui hanno ehm presentato domanda perché si si parlava di di questa opzione o un unico agricoltore nazionale con gli idoni non vincitori oppure i idoni non vincitori assunti nelle regioni in cui hanno ehm presentato domanda pare che l'orientamento sia questo quindi assumere gli idoni vincitori che ne sono della campagna è direttamente in campagna non senza costringerti a effettuare scelte eh per per altre regioni. Eh se così fosse considerando anche la procedura di mobilità una procedura di mobilità massiva che c'è stata eh interna all'agenzia di oltre quattromila posti e ovviamente molte posizioni sono andate a eh sono quelle per le regioni del sud questo mi fa pensare nel prossimo bando come posti per le regioni del sud è possibile che non ce ne sia nessuno guardate io su questo devo essere sincero è possibile o che quantomeno ci siano davvero pochissimi posti per le regioni del sud quindi eh è verosimile che la maggioranza se non addirittura la totalità dei posti eh siano riservati a regioni del centro nord quindi in prossimo bando con duemila cinquecento posti eccetera che sarà pubblicato insomma in primavera eh tra maggio e giugno perché sicuramente questo è il periodo più probabile in cui venga pubblicato anche perché l'assunzione degli idoni non vincitori paghi che sia fissata per inizio per inizio maggio ehm è possibile che nel prossimo bando insomma per le regioni del sud non ci sia o nessun posto comunque insomma proprio briciole eh in termini di assunzione dieci venti posti in in alcune regioni quindi altro io al momento di dati ufficiali non non ce ne sono anche perché credo che l'agenzia eh si riservi di poi effettuare una valutazione più a più come dire analitica all'atto poi delle delle assunzioni che in alcune regioni ci sono state in altre regioni saranno fatte entro il mese di di aprile poi quando di doni non vincitori entro inizio maggio e poi suppongo che immediatamente dopo quindi tra maggio inizio giugno ehm eh verrà poi pubblicato il bando di concorso con una previsione dettagliata dei posti per le singole regioni. Poi ancora tanti mi chiedono di questo concorso della regione Campania che era stato annunciato alcuni mesi fa dal eh governatore della regione Campania corso concorso della regione Campania di cui ad oggi però non non abbiamo ancora notizie certe anzi stanno circolando voci secondo cui è possibile che il bando possa subire uno slittamento di diversi mesi e possa essere pubblicato eh a cavallo del dell'estate tra luglio e settembre. Io su questo ancora una volta non avendo documenti ufficiali insomma non ci metterei la mano sul fuoco quindi non vi so dire se eh sarà bandito eh nell'arco di poche settimane o se effettivamente ci possa essere uno slittamento di eh di alcuni mesi. quindi dobbiamo aggiornarci purtroppo non ho ulteriori eh elementi. E ehm eh a un po' di domande ho già risposto. Dottoressa vuole dire lei del concorso ASMEL anche se insomma già si sa lei che è PADA. Va bene prof. Eh dunque nei giorni scorsi sono stati pubblicati sul sito ASMEL ASMEL.EU eh due avvisi. Uno relativo all'ampliamento delle graduatorie del diciamo bando precedente che si era svolto nel 2022 e dove eh si cercavano una quindicina di profili. E un secondo avviso ehm legato a un nuovo bando per altri profili, quindi profili diversi rispetto a quelli del bando precedente e eh dove si poi davano indicazioni utili su come poter far domanda per accedere alla selezione. La selezione è del tutto uguale a quella del bando precedente ovvero l'ASMEL ehm svolgerà ehm una prova scritta unica e sarà un test con domande sulle materie comuni e su quelle specifiche per ogni profilo e i quiz situazionali. Le materie comuni sono diritto pubblico come la sua volta precedente, diritto amministrativo, diritto degli enti locali, contratti pubblici, pubblico impiego, diritto dell'Unione Europea, diritto penale, reati contro la IPA, contabilità e inglese, informatica e abbiamo detto i quiz situazionali. Oltre a questi bisogna appunto conoscere le materie che sono specifiche per ogni profilo ricercato. Finita questa selezione chi supererà e sarà idoneo verrà inserito in questa graduatoria e eh a mano a mano i comuni ehm faranno pubblicheranno degli interpelli, cioè delle chiamate, a queste chiamate i candidati potranno eh rispondere. Si entra come ho detto in questa graduatoria che dura mi sembra due o tre anni, prof mi corregga se tre, giusto? Tre anni. Il candidato resta in questa graduatoria per tre anni di in questa graduatoria di idonea, non è tenuto diciamo a non è obbligato a rispondere se non è interessato e viene cancellato appunto da questa graduatoria solo se eh riceve un contratto a tempo indeterminato da uno degli enti che ha fatto la chiamata. In caso di contratti a tempo determinato non viene tolto dalla graduatoria ma resta in graduatoria. Esauriti tre anni la graduatoria viene chiusa e ci vediamo. Assolutamente sì. Nel precedente bando ci sono stati diciotto mila candidati idoni che quindi sono entrati in queste in queste credatorie da cui ehm stanno via via pescando i vari enti. Pare che ci siano stati all'incirca già 300 interpelli da parte dei comuni e con gli interpelli eh poi che risponde agli interpelli ehm segue poi una ulteriore fase acquizzo orale insomma ehm e i vincitori poi vengono sostanzialmente assunti. E eh questo è e quindi vediamo insomma come si mh evolverà anche il prossimo bando che è previsto per il 7 marzo se leggevo. Dal 7 marzo ci sono questi due maxi avvisi in gazzetta ufficiale per quindi nuovi elenchi di idoni. Ok? Va bene. E e ci sono delle domande? Se sono arrivate delle domande nel frattempo? Eh prof sì un paio ci sono. Ok mi dica. Vado. Allora eh Fabrizio ci chiede per la graduatoria Ecoripam che è rimasta ultima ancora non uscita che tempi prevede e come mai per ultima? Per quella sono presenti molti errori e mancanze per cui si prevedono ricorsi. Come si procede in questi casi quando la graduatoria si intende definitiva? Eh beh eh in che senso come si procede? Intanto eh la graduatoria poi viene messa a disposizione degli enti che hanno aderito al concorso in modo tale che possano poi iniziare ad eh i diciamo il leader che porterà alle assunzioni. Eh se ci sono molti errori sta poi alle persone interessate da questi errori eh comunicare al ripam gli errori che ci sono stati e nel caso di mancata risposta c'è la possibilità di procedere con eh dei ricorsi per far sì che la propria posizione venga regolarizzata. Io adesso non so nel dettaglio a quali errori si fa eh si fa riferimento. Comunque sia molti mi dicevano ma che possibilità ci sono di eventuali scorrimenti di quella graduatoria? Beh io vi devo dire che mi aspetto scorrimenti più importanti rispetto alla graduatoria del Cufa cioè del concorso unico per i funzionari amministrativi considerando che c'erano molte persone che hanno ehm sostenuto sia il concorso per diplomati sia quello per laureati anche di altri enti, IMS, agenzie dalle entrate eccetera e quindi poi dovendo scegliere tra un profilo per diplomati e un profilo per laureati immagino che tanti opteranno per un profilo per laureati. Quindi mi aspetto comunque eh scorrimenti anche più importanti quindi di diverse migliaia di di unità eh in merito alla eh graduatoria del diciamo di di questo bando per diplomati. E eh di quanto esattamente al momento è impossibile dirlo anche perché poi dipenderà da quanti altre eh posizioni vengono messe a disposizione e quindi mh si parla di ulteriori assunzioni oltre le due mila duecento per cricammate per i vari profili per i tre profili si parla anche di ulteriori assunzioni che potrebbero essere sbloccate nei prossimi nei prossimi mesi. Quindi mh aspettatevi insomma uno scorrimento di qualche migliaio di di unità. Ehm tra qualche mese capiremo capiremo meglio. Molti mi dicevano io sono al posto ottomila, io sono al posto dodicemila, c'è possibilità ad oggi è davvero difficile dirlo, è arduo dirlo. Però quello che vi posso dire è che sicuramente insomma scorrimenti di qualche migliaia di unità eh ci ci saranno. Quindi io mi aspetto che possano arrivare tranquillamente oltre eh i sei settemila in termini di di scorrimenti. Poi quanto oltre lo lo vedremo strada strada facendo. Strada facendo. Poi? Ah poi mi chiedevano perché l'ultima il profilo eco non lo non lo so insomma ehm può anche darsi che ci siano state delle richieste più pressanti per i profili amministrativi rispetto a quelli economici ma non lo so questi sono atti interni che non vengono messi a disposizione, non vengono resi pubblici e quindi rispondere è impossibile. Mh è possibile che da parte delle amministrazioni abbiano dato maggior per il profilo amministrativo piuttosto che per quello economico. Però eh come supposizione non non abbiamo dati ufficiali. Ok prof andiamo avanti. E dunque Michela ci chiede eh se le procedure concorsuali verranno semplificate anche per IMS e agenzie entrate. Eh in che senso semplificate. Secondo me legato forse al decreto mille proroghe? Non lo so Michela dovrebbe essere collegata magari se ci vuole dare qualche informazione in più su cosa intendesse? Michela se fai riferimento a eventuali concorsi con prova unica al momento non se ne parla proprio. Cioè c'è ancora qualcuno che dice ma forse ritorneranno ad esserci concorsi con prova unica. Al momento a me non risulta che ci siano eh situazioni di questo tipo. Eh i concorsi avranno una prova scritta una prova orale una o anche più eh prove scritte che possono essere precedute da forme di preselezione questo discrezione dell'ente e poi la la prova orale. Per il concorso dell'agenzia delle entrate ehm è previsto è possibile è molto probabile che ci possa essere una sospensione del tirocinio cioè nel prossimo bando che possa non esserci il tirocinio ma questo solamente in modo transitorio non è stato pulito il tirocinio l'agenzia si riserva con le modifiche portate al regolamento di gestione dell'ente si riserva di volta in volta a seconda di una serie di fattori di valutare se nelle procedure concorsuali bandite eh per quelle per funzionari se prevedere il lo svolgimento di un periodo di tirocinio che eh al più può avere durata di sei mesi. Questo è. Quindi ad oggi non abbiamo la certezza assoluta che non ci sia il tirocinio però in seguito a questa modifica del regolamento di gestione diciamo diventa probabile che eh nel prossimo bando possa eh non esserci la previsione di un di un tirocinio e che ci possa essere quindi prova scritta, prova orale e basta e poi direttamente l'assunzione eh subito dopo la prova orale con però il periodo di prova di quattro mesi come avviene insomma in tutte quante, tre, quattro mesi adesso non so esattamente di quanto, come avviene in tutte quante le eh in tutte quante le amministrazioni. Altro sul concorso dell'agenzia delle entrate non non sappiamo. Ehm l'unica semplificazione di cui si parla in realtà al di là del tirocinio ma l'unica semplificazione di cui si parla è che è possibile almeno questo insomma da fonti sindacali si dice che è possibile che ci sia una sola prova scritta invece delle due prove scritte che erano previste in eh in passato. Però notizie ufficiali al momento l'agenzia delle entrate non le ha fornite quindi attendiamo le notizie ufficiali del eh dell'agenzia. Vi dico ad esempio io proprio per questo motivo sto attendendo a ehm portare avanti i corsi di di logica e quindi sto portando avanti solamente un corso sulle materie tecnico professionali che certamente ci saranno come da comunicato dall'agenzia di alcuni mesi fa. Quindi le materie tecniche si conoscono. Quindi a chi mi dice come iniziamo a prepararci studiate le materie tecniche come dal eh da avviso dell'agenzia delle entrate. Sulla logica al momento non vi so dire se ci sarà comunque una prova di logica o o se come insomma dicono fonti sindacali eh ci possa essere un'unica prova e all'interno di questa unica prova non è chiaro se ci saranno solo domande di diritto e di economia o se possa essere introdotta qualche domanda di logica. Ecco perché dico intanto studiate le ehm le materie eh inerenti alle eh diciamo alle discipline tecnico professionali. Poi eh eventualmente per la logica a questo punto credo che vi convenga aspettare qualche settimana e poi valuterete insomma il eh il da farsi. Per inizia il prossimo bando per il momento non si parla di un prossimo prossimo bando quanto meno per laureati. Qualche giorno fa ancora c'è stato qualcuno che mi ha parlato del bando quello per l'assegno eh la gestione dell'assegno unico. Ma eh in realtà io ho detto eh non si parlava necessariamente di un bando di concorso. Si parlava di assunzioni per quel profilo. E mi risulta che queste assunzioni sono state fatte rientrare nelle assunzioni che ci saranno eh ad aprile eh pescando diciamo dalla regalatoria del concorso dei mille ottocento eh cinquantotto consulenti della protezione sociale. Non mi risulta ci sarà un bando ad hoc eh per questo profilo. Quindi per i profili da eh diciamo funzionari per i profili da laureati eh per l'Inps. Al momento eh non no non ho notizie di bandi eh imminenti. Il prossimo bando forse ci sarà nel duemilaventiquattro. Cioè al momento eh cercheranno di di esaurire la regalatoria del concorso per mille ottocento cinquantotto per i quali eh i primi quattro mila sono stati già contattati con PEC eh per esprimere la scelta delle eh designazioni delle province che eh verranno scegliere. Ehm e quindi per questi quattro mila eh si si prevede un'assunzione del mese di aprile. Eh poi nel frattempo è stata inviata anche una richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica per eh l'assunzione di un ulteriore contingente di settecento unità. È possibile che queste ulteriori settecento unità ehm possano essere assunte diciamo a cavallo dell'estate o o comunque in in autunno. Con queste assunzioni eh poi si valuterà se se la regalatoria sarà stata disaurita o meno bisognerà vedere anche quante rinunce ci saranno considerate che gli doni sono oltre cinquemila. Eh quindi per queste procedure secondo me così a lume di naso io dubito che possano terminarle eh prima della fine del duemilaventitré. Poi per un eventuale nuovo bando per laureati a quel punto se se ne riparla nel nel duemilaventiquattro probabilmente nel duemilaventiquattro eh inoltrato. Altre assunzioni sono previste dall'analisi dei fabbisogni del personale. Però ehm comunque dopo diciamo l'esaurimento della regalatoria del concorso eh per mila e ottocentocinquantotto consulenti della protezione sociale. Eh un eventuale bando che è atteso entro alla fine dell'anno è quello per il profilo da diplomati. Però ad oggi io notizie su come sarà gestito, quando sarà bandito eccetera notizie precise non le abbiamo. Sappiamo solamente che l'Inps ha previsto insomma lo svolgimento di questo concorso per eh per diplomati con varie centinaia di eh assunzioni. Quindi attendiamo appena ci saranno delle ulteriori notizie proverò a eh fornirvele. Quindi parlare di semplificazione per il concorso Inps non non so a cosa tu faccia riferimento, se hai letto delle informazioni non non ho idea. Per questo dicevo ma tu cosa intendi? Per agenziale entrate la semplificazione è in questo, cioè nel fatto che eh si prevede non non venga svolto il tirocinio. Poi per il resto le materie di studio o eh le prove saranno non saranno tanto diverse rispetto alla precedente concorso. Ehm quindi semplificazioni in in che termini ho difficoltà a comprendere. Eh per l'Inps non non c'è proprio il bando, non c'è una previsione a breve di un bando per laureati. Ok dottoressa? Bene prof. Intanto guardo se per caso Michele aveva scritto e ci dice magari con diminuzione di prove. Sì più o meno è quello che ha detto anche lei direi. Eh guarda l'unica cosa di diminuzione di prove per l'Inps ripeto al momento non abbiamo proprio indicazioni di di nuovi bandi se non quello per diplomati ma non abbiamo esperienze recenti eh del dei concorsi per diplomati. Per l'agenzia l'unica cosa è che insomma non c'è la novità più ecladante è proprio questa legata al tirocinio. Se vogliamo considerare il tirocinio come una prova allora sì insomma eh si si prevede si sta discutendo con insistenza della eliminazione del tirocinio. Andiamo avanti ci chiede certo prof grazie. Ehm si sa qualcosa dunque ci chiede Daniele se si sa qualcosa eh sulla preselettiva dell'agenzia delle entrate se si dovesse fare ci chiede non si fa? Lei pensa di fare un corso ci chiedeva? Finisco la domanda. Eh eh scusami non ho capito bene. Allora ci chiede Daniele se eh si sa qualcosa sulla preselettiva delle agenzie entrate ovvero si farà o non si farà se si farà se lei prof farà una eh un corso organizzerà un corso. Allora Daniele agenzia delle entrate che io ricordi in l'agenzia è diventata operativa a inizio del duemila. Eh le agenzie fiscali sono nate con decreto del novantanove mi sembra decreto credo trecento ma potrei sbagliare eh quindi andate a controllare dalle novantanove sono diventate operative inizio eh all'inizio del eh del terzo millennio. Eh che io ricordi l'agenzia delle entrate non ha mai svolto una prova preselettiva. Eh se fai riferimento all'eventuale prova di logica eh l'eventuale prova di logica non è mai stata una prova preselettiva eh ma è stata proprio prova concorsuale. Quindi forse lo intendeva quella che chiamano oggettivo altitudinale. Ok ma quella è una prova non è preselizione. E tu dirai che cosa cambia? Cambia. No cambia sì sì certo che cambia. No magari lui l'ha espressa in questi termini per sapere eh cioè io l'ho inteso così se ci sarà la prova solo con quiz di logica oppure ci sarà un'unica prova con le materie da programma d'esame. Ecco. Va benissimo. Ehm ti dicevo cambia ad esempio il fatto che mentre nella presa lezione non c'è non è previsto un punteggio soglia giusto per farti un esempio nelle prove concorsuali per legge è previsto un punteggio soglia. Cioè sotto quel punteggio comunque non non si va avanti se si è esclusi a priori a priori dalla procedura. Tanto per dirti una delle delle differenze che sono poi differenze di peso. Cioè io ho visto dalle preselezioni in cui si sono eh si superavano tipo quella del concorso INPS eh del duemiladiciotto bando duemiladiciotto dove la presa lezione su un punteggio massimo di trenta punti l'hanno superata con quattordici punti anche o poco più di quattordici punti. Eh mentre nelle prove eh concorsuali solitamente c'è lo sbagamento a ventuno trentesimi che è un bel po' più di di quattordici punti. Indipendentemente da quante persone poi chiestano raggiungere il ventuno. Quindi insomma eh eh la 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 differenza è di peso sembra una eh di poco conto ma è una differenza di peso. Quindi lo sottolineiamo per questo. Eh comunque sia prova di logica al momento non io non ho conferme sullo svolgimento della prova di logica. So che alcuni stanno parlando della prova di logica ma eh io mi attengo a quello che è venuto fuori da fonti sindacali che eh hanno partecipato a tavoli di confronto con la dirigenza e e e si è parlato di una prova unica ehm poi se all'interno di questa prova unica ci eh saranno anche domande di logico o meno eh questo ad oggi ancora non non lo so dire e e ripeto manca cioè io non ho trovato nessun documento ufficiale quindi prima di darvi una notizia con l'ufficialità della ehm del dei documenti della carta attendo che venga pubblicata la carta e se prima non c'è non non mi sento di darvi delle indicazioni precise. Quindi ad oggi ricordatevi questo noi abbiamo ufficialità cioè fonti dell'agenzia sulle materie tecnico professionali quindi quelle potete iniziarle a tranquillamente a studiare. Sulla prova di logica se lo becco perché era scritto anche nella eh nel nell'avviso che l'agenzia delle entrate ha pubblicato ehm qualche mese fa già in realtà inizio del 2022 e poi lo ha ripreso a settembre con un aggiornamento a settembre 2022. Quindi già in quel eh comunicato leggendolo in modo opportuno eh alla fine del comunicato molti non ci sono arrivati alla fine diceva avvertenze le prove d'esame potranno essere incentrate anche su quesiti di carattere oggettivo attitudinale. Quindi usano questa formula per dire la logica sì forse c'è forse non c'è. Cioè non hanno detto la logica ci sarà. Quindi per questo le persone che dicono sicuramente ci sarà la logica non so su che basi lo eh lo dicono. E vi sto mostrando proprio il documento ufficiale della dell'agenzia delle entrate. Ripeto questo dovete prendere in considerazione perché è proprio una fonte ufficiale dove per ciascun profilo tipo il profilo questo qui. Vabbè questo i novecento assistenti tecnici. Andiamo a quello che vi interessa maggiormente. Il profilo per duemila cinquecento funzionari. Allora si dice per il profilo tributario quali sono i titoli che consentiranno di partecipare alla prova lauree di tipo giuridico economiche. Quali saranno le materie di esame diritto tributario, civile commerciale, amministrativo, aziendale, organizzazione di gestione aziendale, scienza delle finanze, elementi di statistica. Oppure se qualcuno dovesse essere interessato al profilo dei funzionari di servizi di pubblicità immobiliare con quale titolo si potrà accedere? Laurea di tipo giuridico. Quali saranno le materie di esame? Queste qui diritto civile, amministrativo, elementi di diritto processuale civile, diritto tributario, diritto penale, organizzazione interna degli uffici, eccetera. Quindi ehm per questo dicevo queste sono cose che ha già comunicato l'agenzia e quindi sono materie che vi conviene già iniziare a studiare perché altrimenti poi tra il bando e lo svolgimento delle prove non avrete il tempo di coprire il programma a meno che non abbiate già una preparazione molto solida. Per cui non aspettate la pubblicazione del bando, iniziate a studiare queste materie. Oltre queste in nessuno dei profili era indicata la logica. Alla fine però del comunicato l'agenzia comunque ha sottolineato questo. Le prove potranno essere incentrate anche su quesiti di relattere oggettivo attitudinale. Quindi ha inserito questa postilla come possibilità, non come non come certezza. E ad oggi ancora non abbiamo elementi per dire se ci sarà o meno la eh se ci saranno meno quiz di logica, nemmeno prova di logica, ma può anche darsi che ci possa essere qualche domanda di logica nella prova eh tecnica che assegneranno. Però su questo dobbiamo ancora attendere alcune settimane. Appena sapremo qualcosina in più poi ci confrontiamo. Se dovessero esserci quesiti di logica poi valuteremo se insomma procedere solamente con un volume o con un colso con un colso intensivo ad hoc sul sui quesiti di logica. Va bene? Dottoressa? È venuta a mancare. No prof, avevo messo muto, mi scusi, mi era partita, avevo ricevuto anche una telefonata, non volevo. Allora andiamo avanti con Fabrizio. Per quanto riguarda la eh anche qui la graduatoria Ripam profilo Eco, che tempi prevedi? Perché è rimasta ultima? Perché insomma tutto quanto contemporaneamente non possono fare. Anche di quella guardate si dice che comunque sono in una fase avanzata di correzione delle prove, di di valutazione dei titoli, di di diciamo eh sono già a buon punto nello stilare la graduatoria. Però non vi so dire cioè il Formex non non fornisce mai questo tipo di indicazioni, quindi in modo ufficiale quanto meno. Quindi dobbiamo attendere. In modo ufficioso si dice che insomma in questione di alcuni giorni non dovrebbe passare molto prima dalla pubblicazione anche della dell'ultimo profilo. Però non non ho elementi per dirvi esattamente quando, se tra una settimana, due settimane. Eh nello scorso webinar, vi avevo detto, insomma era prevista quella eh del profilo amministrativo entro alla fine del mese e così è stato. Però mh anche su questa del profilo ecco paghe che insomma non ci voglia molto tempo. Però non ho ulteriori indicazioni da dare. Poi? Allora, ci chiede Andrea, è una domanda un po' lunga. E dunque, come devo interpretare l'articolo 21 del DPR 487 del 94 che regola i concorsi unici? Eh va davanti. Il detto articolo 21 che disciplina i concorsi unici organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica così recita le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della Funzione Pubblica fino all'ora esaurimento provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Ricordo che i concorsi unici organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono Cufa e Ripa 2293 diplomata di area seconda. Sì. Adempio il Dipartimento della Funzione Pubblica è la selezione con un uomo di vincitori per l'esigenza per un bienio. A tal fine la Presidenza del Dipartimento della Funzione Pubblica entra il mese di febbraio di ogni anno sulla base della funzione dell'amministrazione relativa alla funzione di un uomo fissa il contingente di riposte dei uomini e gli antivincitori del concorso. Va bene. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del Dipartimento della Funzione Pubblica è l'amministrazione di cui possono utilizzare il contingente di uno solo dopo l'eserimento della relatoria del concorso precedente. Va bene. Questo era comunque già quanto previsto dalla legge d'Alia di alcuni anni fa. Però dice le amministrazioni dell'articolo 19,1. Allora fa riferimento alle amministrazioni pubbliche ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende, degli antilocali, dei loro consorsi, delle istituzioni di ricerca. Mediante un concorso del regatorio di un'isigenza non è predisposta. Allora, è chiaro. Cioè, praticamente per amministrazioni pubbliche, poi con tutte le eccezioni di regioni, amministrazioni, aziende, enti del servizio, eccetera, enti locali, istituzioni, fa riferimento sostanzialmente ad eventuali ministeri. Cioè, se c'è un ministero che ha bisogno di attingere un profilo come profilo, il funzionario amministrativo deve fare riferimento alla relatoria del concorso unico. Sostanzialmente credo che si dica questo, non tutte quante le amministrazioni pubbliche, ma per profili attinenti. Cioè, loro possono attingere dalla relatoria, diciamo, CUFA, se devono assumere persone che hanno quell'uguale profilo, quindi per profili analoghi, non per altri tipi di profili. Per altri tipi di profili comunque i ministeri possono procedere con altri tipi di concorsi. Poi? Ok, e ci chiedono novità sull'ufficio del processo, su agenzie entrate, direi che l'abbiamo un po' dato. Su l'ufficio del processo dobbiamo ancora attendere. Io vi dico che è vero che, insomma, c'è voglia di anticipare i tempi, anche perché molti nel frattempo si sono dimessi o si stanno dimettendo, perché hanno vinto concorsi a tempo indeterminato e quindi, soprattutto in alcune regioni del nord, hanno bisogno di assumere. Attendiamo come si muoverà il governo. Ad oggi non abbiamo proprio indicazioni ancora dettagliate e precise. Attendiamo come si muoverà il governo, però pare, insomma, che sia reale e concreto l'intento di procedere con qualche mese d'anticipo con la pubblicazione dell'Urbana. Agenzia entrate 2024, prof. Confermiamo che saranno 1600 funzionari? Ci chiede Ivan. Allora, al momento di Ivan è assolutamente prematuro dirlo. In questo avviso si parlava di 1600 posti, ma prematuro perché questa è una previsione. Poi, generalmente, le previsioni possono subire alcune variazioni in base o ad eventuali nuove autorizzazioni ad assumere. Magari nel frattempo c'è una nuova autorizzazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e i posti possono crescere. O per il fatto che posti vaganti della precedente selezione potrebbero essere inseriti nel computo delle nuove assunzioni. Quindi, sì, al momento la previsione è quella e non ci sono variazioni. Però può anche darsi che possono essere più di 1600 posti, potrebbero essere anche 1700, 1800, 1900, nel caso in cui nel frattempo ci siano ulteriori autorizzazioni ad assumere. Ok, prof. Proseguo. Sì. In merito al concorso comune di Messina, avendo rinviato la scadenza del bando al 27 marzo, è possibile che le prove vengano ormai svolte a ridosso dell'estate? Sì, assolutamente sì. Invece Andrea ci chiede, IMS ha comunicato come data di assunzione il 17 aprile, la procedura scelta delle sedi inizia o dovrebbe iniziare lunedì. Secondo lei quando potremo conoscere le destinazioni? Beh, subito dopo. Intanto devono assegnare le province. Poi è possibile, però su questo attendete, è possibile che una volta che i candidati siano stati smistati nelle varie province, sempre in ordine di graduatoria, ai candidati che ne sono smistati nella provincia di Milano, ci possa essere un secondo step verso metà marzo, 20 marzo, giù di lì, entro fine marzo ci possa essere il secondo step, quello relativo alla scelta della singola sede, delle singole sedi che sono presenti in provincia di Milano. Quindi però se faranno così o se ci saranno designazioni d'ufficio, questo poi lo saprete, probabilmente lo comunicherà direttamente nell'incontro, c'è un incontro online con Tridico, quindi può darsi che siano delle informazioni che vi vengono fornite poi in diretta in questo incontro online con il presidente dell'Inps. Quindi chiedete direttamente o quantomeno chiedete durante quell'incontro. Io mi aspetto che dopo che avranno finito la suddivisione dei candidati per provincia, poi sempre sulla base dell'ordine di graduatoria facciano scegliere i singoli candidati in ogni provincia la sede di destinazione. E quindi questo per far sì che avvenga anche questa procedura, insomma potrebbe, probabilmente lo saprete per l'inizio aprile, prima di Pasqua. Ok. Andiamo avanti, prof, ci chiede Flavia. Sì. Il corso per l'eventuale prova tecnica agenzie entrate è già iniziato? Oh, è voglia, è già iniziato e già da parecchi giorni ho chiuso le iscrizioni perché è stracolmo, poiché lo svolgo online, lo svolgo con un sistema in cui è possibile anche interfacciarsi, cioè guardarsi, guardare i candidati, i candidati interagiscono proprio direttamente con i singoli docenti, avevo dei limiti oltre i quali non potevo andare, altrimenti insomma avremmo avuto problemi anche di qualità del segnale. Quindi sono stato costretto a chiuderlo anzi tempo, non accetto più iscrizioni. Mi spiace Sabrina. E dunque, Andrea ci dice, le graduatorie dei concorsi unici organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica vanno ad esaurimento? Probabilmente era il proseguo della domanda precedente. Andrea, questa è una di quelle cose su cui insomma tanti dicono, eh vedrete, saranno comunque insomma esaurite, cioè ad oggi non lo possiamo dire, non abbiamo dati, tipo per il Cufa ormai è passato oltre un anno dalla pubblicazione della graduatoria, quindi in teoria insomma entro la fine di quest'anno, inizio 2024 scadrà, poi dipenderà, secondo me entro la fine dell'anno non non servirà all'esaurimento, ma sì ci sarà un nuovo scorrimento, forse anche di duemila, tremila unità, però prima che si arrivi all'esaurimento ma ce ne vuole tanto e io credo che entro la fine dell'anno insomma è difficile che si possa arrivare ad un esaurimento. Però sta nelle facoltà del governo decidere eventualmente di prorogare la durata della graduatoria che per il momento è di due anni, la potrebbe comportare a tre anni, perché no? Eh però questa poi è una facoltà politica, una scelta politica e quindi spetta al governo, io adesso non so se il governo si orienterà in questo modo o meno. Però entro la scadenza della graduatoria io sono molto scettico che si possa arrivare insomma eh ma non solo all'esaurimento ma che insomma ci vorranno migliaia di posti prima di poterla esaurire entro diciamo la scadenza. Quindi un ulteriore scorrimento ci sarà forse ulteriori due entro la scadenza perché è verosimile che ci sia un ulteriore scorrimento tra nell'arco di alcune settimane, tra uno o due mesi e poi un altro ce ne possa essere in autunno. Dopodiché saranno scorrimenti di mille, duemila posizioni, duemila cinquecento posizioni, dopodiché eh resteranno ancora tante migliaia di posti da da eventualmente da ehm assumere e per questi dipenderà poi dal governo se si deciderà di farla scadere o se di prorogare. Ci segnala Andrea Prof mi perdoni l'ho letto solo adesso perché stavano arrivando un po' di domande che lei stava guardando la vecchia formulazione dell'articolo ventuno. No va bene ma non è cambiato perché anche nella nuova formulazione guarda non c'è il senso è questo ehm nella nei concorsi eh il principio che è stato ripreso che è stato ehm che è al centro di di quella diciamo di quell'articolo è eh risiede nella vecchia legge d'Alia che è una legge di alcuni anni fa credo sei sette anni fa forse anche di più insomma di sei sette anni fa ehm che è proprio questa cioè quella di comunque dare priorità prima di ehm procedere con una nuova procedura concorsuale alla all'esaurimento delle vecchie procedure. In merito ai concorsi unici ovviamente si fa riferimento in modo particolare ai concorsi di enti centrali eh ma questo non significa che poi si debba insomma tutti quanti i comuni eccetera debbano attingere al ehm alla carriottore Cufa come sta accadendo insomma avete visto come contemporaneamente alla carriottore Cufa tanti enti stanno procedendo eh indipendentemente dal dal carriottore Cufa anche per profili amministrativi quanti comuni hanno bandito eh posti per profili amministrativi invece che attingere di lì eh ma per quale motivo? Perché ci sono delle differenze in termini anche di discipline da dover eh studiare quindi sostanzialmente questo quindi da quella carriottore è possibile che attingano e solitamente stanno attingendo enti come dire enti centrali adesso si parla del ministero della giustizia che per funzionari amministrativi dovrebbe attingere da eh da quella carriottore a ulteriori ulteriori posti però eh principalmente fate riferimento a eh diciamo enti centrali quindi in modo particolare ministeri ehm o qualche agenzia eh per altre assunzioni anche IMS cioè IMS comunque il profilo eh dell'IMMS è il profilo è un profilo di funzionario amministrativo però è un profilo diciamo qualificato quindi non sovrapponibile ai profili messi a bando dalla eh dal eh dal ripam quindi ehm è una norma che poi va interpretata secondo delle delle situazioni diciamo mh in generale sicuramente possono attingere una serie di di enti ma non aspettatevi che tutti gli enti pubblici assumano di lì e ripeto è quello che sta sta accadendo cioè inutile anche non serve che ve lo dica io è sufficiente vedere i bandi di concorso anche per i profili amministrativi ci sono tanti eh tante amministrazioni che procedono indipendentamente da quella regalatoria e procedono con proprie eh procedure concorsuali. Andiamo avanti prof e ci chiede scusi fonta Andrea Fontana eh pongo l'attenzione sul comma quattro dell'articolo ventuno come lo devo interpretare? E cosa dice il comma quattro? eh le amministrazioni possono utilizzare il condivisione di un concorso solo dopo l'esaurimento della regalatoria? Questo qui? Se questo qui è nulla e risiede ripeto nella vecchia legge d'Alia ma non c'è nessuna novità in merito. Ok andiamo avanti. Vado nel frattempo su normativa dove sicuramente c'è la legge aggiornata. Ci chiede? Comma quattro dell'articolo ventuno letto? Sì. Giusto? Sì. Eh sì è lo stesso vedete non è cambiato nulla. Le amministrazioni di cui l'articolo dicianno va e possono utilizzare il contingente di un concorso solo dopo l'esaurimento della regalatoria. Allora considerate che sì questo è vero ma è anche vero che in alcune situazioni particolari adesso non ricordo il profilo normativo però in alcune situazioni particolari si possa procedere anche in derora a questa previsione con eh tipo quello che è successo per la prefettura avete visto per la carriera prefettizia e eh c'è una procedura che è ancora in concorso di svolgimento quella per i duecento posti dove hanno svolto le prove scritte e stanno correggendo le prove scritte ma nel frattempo hanno pubblicato una nuova procedura cioè in teoria avrebbero dovuto aspettare la conclusione della procedura per i duecento posti per procedere con il nuovo bando di concorso però è previsto che in situazioni particolari motivandolo in modo opportuno eh gli enti possano procedere e possono andare in derora a quella eh diciamo a questo articolo a questi commi ehm con pubblicando nuove procedure per lo stesso profilo io vi parlo di carriera prefettizia sia il bando per duecento posti sia quello per centotanta posti fanno riferimento allo stesso profilo non sono due profili diversi in quel caso il ministero dell'interno lo ha giustificato in modo opportuno e è andato in derora a queste normative ecco perché dico non non fissatevi io so che ci sono delle persone che si stanno un po' aggrappando la speranza in attesa di scorrimenti è possibile che ci siano degli scorrimenti anche più eh cospicui però considerate che la cosa non è così automatica come qualcuno ha voluto raccontarla su alcuni gruppi social. Ok ci chiede arrivo eh mi perdoni mi è scomparsa la eh eh Ivan prossimo concorso allievi carabinieri che uscirà verso aprile maggio il limite di età sarà venticinque ventitré anni? Non lo so eh non ho ne ho idea mh se non sbaglio dobbiamo vederlo. Allora nel tempo lega altro. Mi sembrava venticinque entro il compimento del ventesimo anno? Una roba così? Eh prima del compimento del ventisesimo cioè fino a venticinque anni e e trecentosessantaquattro giorni cioè questo cioè il giorno prima del compimento del ventisesimo anno però siccome eh per queste cose per i concorsi militari ci sono stati alcuni cambiamenti alcune modifiche ci sono degli aggiornamenti tipo è stato rivisto il lo schema di svolgimento del eh dei profili per volontari adesso c'è il tre più tre non c'è più l'uno più quattro eccetera non vorrei che ci sia stata qualche modifica eh secondo me è rimasto quello dei venticinque anni la previsione dei venticinque anni c'è prima del compimento del ventisesimo anno dal dal giorno del compleanno dei ventise anni non si può più partecipare salvo poi che non non ci siano altre esperienze tipo esperienze di di eh dell'anno in qualità di volontario eccetera o cose di questo tipo che danno diritto a una procura di un anno di due anni rispetto al limite previsto dovrebbe essere così comunque vada lì nel frattempo allievi carabinieri così vedo se becco il precedente bando ok prof cerco di risalire a una domanda eh qui Rosanna eh cita un news eh del portale concorsando che parla di assunzione nella PA tra cui concorsi ministeriali in agenzia in linea di massima questo significa che la pubblicazione dei bandi ci sarà verso metà anno quindi giugno e luglio per farsi vorrebbe farsi un'idea Rosanna anche temporale delle procedure concorsuali posso dire intanto prof che intanto quelli lì sono cose un po' che erano annunciate però poi non è detto che escano tra giugno e luglio tutti questi bandi anzi cito il suo esempio aveva detto agenzie entrate forse potrebbe uscire tipo tra aprile e giugno sì sì e a sostegno sappiamo che c'è un decreto ministeriale che deve uscire e di solito le prove si fanno in estate cioè poi dipende da che cosa un po' eh governa questo tipo di bandi di concorso certo ehm allora per il momento quello che sappiamo è agenzie dalle entrate insomma è previsto in primavera come come bando quindi mh c'è ancora da attendere alcune settimane ma non non tantissimo per altri profili dobbiamo dobbiamo attendere non abbiamo indicazioni precise eh ministro della giustizia è possibile che ci sia qualcosa però mh bisogna anche capire meglio quanto attingeranno dalla creatoria Cufa quanto però insomma l'unico l'unico forse elemento di certezza che abbiamo oggi è proprio il concorso dell'agenzia dalle entrate eh il bando è previsto per eh tra alcune settimane io immagino che lo facciano uscire però ripeto una mia ipotesi immagino che lo facciano uscire subito dopo l'assunzione di tutti quanti eh i doni e i doni vincitori e i doni non vincitori del concorso in atto e l'assunzione dei doni non vincitori del concorso in atto pare che sia prevista per inizio maggio quindi poi subito dopo quindi maggio giugno per essere ancora più precisi tra maggio e giugno esca il il nuovo bando per altri profili guardate non solo per l'agenzia sappiamo che da varie dichiarazioni che ci sono state che hanno proprio urgenza di procedere con lo svolgimento del eh del concorso quindi urgenza significa che poi immediatamente dopo ehm si si procederà con eh con le prove quindi bando maggio giugno e verosimilmente la prova scritta o le prove scritte a settembre ottobre e poi novembre dicembre gli orali quindi poi i tempi saranno veloci per chi vuol voglia preparare quel concorso per altre procedure è ancora presto per dare un'indicazione più precisa su eh marzo piuttosto che aprile piuttosto che giugno piuttosto che agosto adesso è ancora presto ok andiamo avanti oh mamma mia sono arrivate altre due tre domande e Ambra ci dice per Cufa più dei profili simili forse gli scorrimenti riguardano gli enti facenti parte del concorso unico no? Ad esempio IMS, agenzie entrate, comuni non fanno parte? No non solo quello non eh tanto che al di là del degli enti che hanno adeguito in prima battuta al concorso Cufa poi ci sono state eh assunzioni o sono previste assunzioni anche da parte di enti che in prima battuta non hanno aderito al concorso Cufa. Quello sì indubbiamente gli enti che hanno aderito insomma devono attingere da lì. Eh ma ehm c'è la possibilità che anche altri enti che non abbiano attinto in che non abbiano aderito in prima battuta possano comunque fargli riferimento a quella che è all'autore. Ok Marina ci chiede è un po' lunga la domanda. Domanda pratica per portarsi avanti ma con debita scaramanzia. Conviene accettare queste sono le domande consiglio di vita proprio mettiamo in questa rubrica qui. Conviene accettare comunque un'assunzione in un ente anche in una sede molto lontana se si viene chiamati e sperare in un riavvicinamento o considerate le carenze di alcune sedi è un ragionamento da non fare perché è prevedibile che dove si venga assegnati si debba rimanere. Vado avanti. Allora. C'è un altro pezzo. Ok. Intanto rispondiamo nel precedente bando per allievi carabinieri c'era proprio quello che dicevamo prima eh non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseesimo anno di età. Però questa è la scadenza del bando. Quindi diciamo fino a venticinque anni fino ai quasi ventisei anni. Prima del complimento dei ventisei anni si può partecipare. Questo è la precedente bando. Io adesso non so se negli ultimi mesi hanno ritoccato il limite. Non mi risulta. Però può anche darsi che non sia aggiornato io. Quindi in teoria è fino ai venticinque anni eh da confermare diciamo. Ah eh Maria hai detto che si chiama? Sì Marina. Marina. Scusami Marina. Allora Marina ehm diciamo che i vari enti io ho rilasciato anche una intervista a Pian Magazine recentemente per parlare di questo argomento perché si si dice spesso che ci sono tante rinunce e molti restano scioccati. Ma come? Insomma con la fame di lavoro tutte queste rinunce e ho sottolineato guardate che tutte queste rinunce non tutte ma tante di queste rinunce quanto meno non sono tanto legate alle solite polemiche sul fatto che una persona non vuole andare al nord eccetera. Sì qualcuno anche per quel motivo. Eh ma molte di queste rinunce in realtà sono legate a a quelle persone che hanno ehm svolto varie selezioni hanno partecipato a varie selezioni concorsuali e quindi poi alla fine avendone vinte diverse eh magari sono state assunte inizialmente al comune faccio finta di Genova dopo due mesi è uscita fuori la regalatoria del Ministero della Salute e quindi hanno preferito passare dal comune di Genova al Ministero perché gli stipendi del Ministero magari sono più corposi rispetto a quelli di un ente eh di un ente locale. Eh dopo ancora alcuni mesi hanno partecipato al concorso IMS e quindi adesso lasciano il posto al Ministero della Salute e tra qualche settimana passeranno al concorso IMS. Lasciano nel senso che si dimettono dalla precedente posizione per andare a coprire una nuova posizione. Cioè io sto vedendo che sta accadendo questo. Quello che sta accadendo è che ci sono tanti candidati che hanno raggiunto un buon livello di preparazione e quindi tendono a vincere tutti i concorsi a cui partecipano o comunque tanti concorsi a cui partecipa. Io ho tanti corsisti che hanno vinto negli ultimi due anni tre, quattro, cinque concorsi diversi e vi assicuro non uno, non è un caso eccezionale e non ho corsisti che posso dire che sono dei geni, per l'amore di un cielo, sono dalle proprie persone, persone a cui sono anche affezionato, ma sono dalle persone che si sono rimboccate le mani che hanno raggiunto un livello di preparazione tale da ehm eh cavarsela in tanti tipi di concorsi anche concorsi differenti l'uno rispetto all'altro. E quindi ce ne sono proprio ma parecchi che hanno vinto minimo tre, quattro selezioni. Minimo tre, quattro selezioni. Ovviamente in questo caso dovendo accettare solamente uno di questi posti poi tutti gli altri eh rifiutano altre posizioni e quindi restano in questo modo ci sono tante rinunce eh per anche per fenomeni legati a questo aspetto. Fatta questa precisazione ehm è vero che continueranno ad esserci molte assunzioni però è anche vero che generalmente nei contratti salvo che non si vada in derora solitamente ehm c'è la postilla dei cinque anni di permanenza nella sede di prima designazione. Questi cinque anni di permanenza in qualche caso si è andato in derora ad esempio nell'ultimo ehm nella nel concorso INPS con l'assunzione INPS si è riusciti ad avere delle procedure di immobilità anche prima di aver maturato i cinque anni di servizio all'interno del dell'ente. Ma perché c'è stato un accordo tra sindacati dirigenze eccetera? Ma sono al momento almeno a meno che poi insomma non cambi la situazione al momento sono degli episodi rari e difficile che accada. Cioè solitamente quando vince un concorso salvo che non ci siano altri problemi che ci siano problemi in famiglia tipo eh con parenti invalidi quindi con cento quattro eccetera salvo altre formule che a volte vengono utilizzate eh avere una una un riavvicinamento una mobilità prima dei cinque anni ti devo dire che non è così scontato come a volte qualcuno dica. Anzi eh ci sono ad esempio persone che sono eh in Lombardia che lavorano in Lombardia e da una decina d'anni cercano di avere una una trasferimento e non riescono ad averlo e questo è anche il motivo per cui tanti dipendenti dall'agenzia delle entrate hanno dovuto rifare il concorso e vincerlo in magari regioni del sud per poter avere il trasferimento che altrimenti in altro modo non sarebbero riusciti ad ad averlo. Quindi questo se ti puoi orientare non da questo punto di vista non dare nulla nulla per scontato e nessuno potrà rispondere alla tua domanda. Eh tu puoi accettare il lavoro che ne so a 800 chilometri da dove abiti adesso. Però eh questo significa che poi comunque ehm hai buone possibilità di avere un avvicinamento nell'arco di un anno o di due anni? Nessuno ti risponderà a questa domanda. Può accadere come ripeto è accaduto all'Inps eh ma è stato un evento eccezionale ad oggi un evento eccezionale. Potrebbe non accadere e potresti essere costretta a restare nella sede di prima assegnazione per parecchi per parecchi anni. Quindi questa è una decisione che spetta che spetta a te e prendila però considerando che eh oggi ci sono tanti tanti concorsi in atto. Ehm ci saranno ancora una serie di bandi di concorso però la tendenza poi sarà a calare in termini di di numero di di assunzioni per quanto si dica insomma che ehm comunque ci sono ancora tante tante persone tanto personale da assumere. Sì è vero. Insomma di procedure ce ne saranno tante. Però eh i ritmi nelle assunzioni del pubblico prima o poi caleranno. Quindi valuta anche questo questo aspetto. Poi sta a te decidere se rischiare o meno insomma in base alle tue scelte di vita. Grazie prof. Vado avanti però con la domanda. Eh diceva Marina. Tranne pochi enti dove si fa domanda con cognizione di dove si dovrebbe andare. In molti casi la destinazione e la sede diventano una lotteria dipendente dalle graduatorie. In questi casi un rifiuto implica un depennamento dalla graduatoria? Sì. Se non accetti la designazione che ti danno ovviamente eh ti faranno scegliere in base alla posizione di graduatoria una serie di 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 sedi possibili. eh se non dovessero fornirti quella a te più congeniale e tu dovessi rifiutare sei depennata. No. Su questo non c'è tutto. Ok. Perché risulterresti rinunciataria. Rinunciataria significa come se eh insomma a te non non interessa essere assunto e quindi saresti eliminato. Va bene prof. Eh andiamo avanti l'ultima domanda di questo giro. Eh Ivan. Sempre in merito al concorso per carabinieri semplici di aprile maggio. C'è stata una riforma che ha preso avvio ad inizio anno in cui c'è stata una riduzione dei limiti di età per i civili. Una prima riduzione si è avuta per il concorso allievi finanzieri. Sì. E lui ci sta chiedendo se è valida anche per i carabinieri. Questo lo dobbiamo approfondire. Non 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 so dirlo. Francamente non so dirlo. lo dobbiamo approfondire. Va bene ci guardiamo Ivan e poi ti diciamo. E prof. Al momento domande finite. E allora c'erano state delle persone che mi avevano chiesto delle indicazioni sul concorso SNA. Intanto a chi dovesse interessare è pronto il volume per il... Prego. Mi perdoni. Mi scusi tantissimo. E c'è l'ultima domanda che mi ero dimenticata. Notizie sul DSGA. No non ne abbiamo. Lo so che le state aspettando. Ho provato a cercarle. Non ho nessun aggiornamento serio. Mi spiace. Va bene. Allora dicevo nel frattempo tra qualche settimana uscirà il decreto per l'avvio del nuovo ciclo del TFA sostegno e abbiamo lavorato per avere una ehm per il diciamo l'edizione aggiornata del volume sul TFA sostegno, il volume bandito da il volume realizzato da Maggioli e questo che vedete è realizzato da Rosanna Calvino e Maria Suole la Rana e ehm uscirà poi anche il concorso con il volume con i quiz. Questo segnalo eh questa iniziativa che a me piace molto ehm a cura di Luigi Tramontano con la collaborazione di Jacopo Alcini eh questo schemi e elezioni ehm questa è la copertina del volume di diritto pubblico ma ci ci saranno insomma anche volumetti di eh in merito ad altri mh ad altre branche del diritto eh mi piace molto per chi diciamo questi sono dei volumi che possono andare bene proprio a quelle persone che hanno davvero poco tempo per studiare perché hanno impegni di lavoro, di famiglia eccetera ed è una edizione con eh delle mappe concettuali a cui poi seguono eh alcune pagine di approfondimento su questi schemi che sono mostrati dal dall'autore in merito ai principali concetti quindi ci sono una serie diciamo di riassuntini per focalizzare l'attenzione sui eh i concetti fondamentali e poi eventualmente come ulteriore forma di approfondimento per chi voglia si può eh accedere tramite il quel codo ad alcune video lezioni in cui l'autore eh fornisce ulteriori eh elementi quindi novità editoriale dottoressa quali volumi sono già in commercio di questa collana schemi e elezioni? Allora la prima è diritto pubblico e come diceva lei ogni capitolo è fatto da alcune mappe concettuali generiche che poi vengono esplicate eh in modo più approfondito in ulteriori schemi diciamo più corposi e ogni capitolo eh contiene un QR code che rimanda alla video lezione diciamo di riferimento nel diritto pubblico sono eh mi sembra sedici video lezioni e le video lezioni durano tra la mezz'ora dopo dipende insomma un po' dall'argomento che si tratta e mh le prossime pubblicazioni saranno eh diritto costituzionale amministrativo e diritto penale e poi andremo avanti ehm con altri dovrebbe esserci anche diritto degli enti locali comunque diciamo le prime tre o quattro insomma sono queste. Cioè cosa trovano già in libreria? Allora troveranno nei prossimi giorni diritto pubblico e poi entro fine marzo direi troveranno diritto costituzionale e diritto penale. Beh beh mi piace mi piace mi piace va bene e oltre che queste insomma novità editoriali poi dicevo ci sono alcune persone che mi chiedevano del degli aggiornamenti sul concorso SNA sull'eventuale data della preselezione non ce n'è ancora nessuno non abbiamo nessuna indicazione precisa sullo svolgimento della preselezione però considerate che ad oggi quello che sappiamo che è possibile che venga svolta in primavera. Quindi diciamo da fine aprile in poi qualunque momento potrebbe essere buono per lo svolgimento della preselezione dipende poi anche dalla disponibilità delle aule e da altri eh da altri fattori. Anche su questo ci aggiorniamo. E poi mi chiedevano ma eh ci sono delle indicazioni su come svolgere i quiz eh senza carta e penna considerando che eh comunque le prove verranno svolte con l'ausilio di tablet. Allora intanto non sappiamo ancora se se insomma eh ai candidati daranno la possibilità di usare un foglio e una penna per ehm prendere appunti svolgere insomma delle operazioni eccetera. Quindi non è escluso questo ma anche nel caso in cui non dovessero dare nulla ehm sicuramente ci sono delle tecniche però guardate spiegarle nell'arco di pochi minuti insomma va va diventa praticamente è pressoché è impossibile. Ehm per avere un'idea del tipo di domande che vi possono assegnare provate a vedere sia i quiz che hanno assegnato nella eh prova del precedente ciclo. Nella prova del precedente ciclo c'erano ad esempio diverse domande con dei brani e su queste non è necessario c'erano c'erano dei brani abbastanza brevi con poi una domanda di comprensione del brano. Quindi possiamo dire domande eh tipo quelle di antologia che avete svolto durante gli anni della scuola. E sono domande a cui si poteva tranquillamente rispondere senza eh l'ausilio di carta e penna. Poi c'erano altre domande tipo queste che vi sto mostrando adesso che ehm alcune tipo la prima dice Ilario e Irene sono figli di due fratelli. Che rapporto di parentela c'è tra il fratello minore di Ilario di nome Isidoro e Isacco il nonno materno del figlio di Irene. Allora questa è una domanda su cui molti eh con carta e penna insomma se la cavano più facilmente. Senza carta e penna hanno eh delle difficoltà. Io qui dico spesso questa tipologia di domande giusto per darvi una un'idea, un'indicazione. Vi aiuta molto eh ragionare eh cioè leggere in modo opportuno la la traccia. Dire che Ilario e Irene sono figli di due fratelli vuol dire che Ilario e Irene sono tra di loro cugini. Cioè io partirei già di qui. Eh cerco di elaborare l'informazione. Ilario e Irene i figli di fratelli sono tra di loro sono cugini. Quindi Ilario e Irene sono cugini. Poi il rapporto di parentela che c'è tra il fratello minore di Ilario e come dire Ilario stesso. E ehm quindi Isidoro dire Isidoro dire Ilario tanto sono fratelli cambia cambia davvero poco. E poi quindi che rapporto c'è tra Isidoro e il nonno materno della figlia di Irene. Quindi abbiamo detto o Isidoro o Ilario tra di loro sono fratelli cambia poco. Se Ilario è cugino di Irene anche i fratelli di Ilario saranno cugini di Irene. Quindi anche questo Isidoro è un cugino di Irene. Il nonno materno del figlio di Irene è praticamente il nonno materno del figlio. Quindi Irene ha un figlio, lo dobbiamo mettere sotto. Il nonno materno è il papà di Irene. Ok? E il papà di Irene è lo zio di Ilario. E se è lo zio di Ilario sarà anche lo zio dei fratelli di Ilario. Quindi anche lo zio di eh Isidoro. Quindi praticamente Isidoro è il nipoto di questo e nipote di questo nonno o e eh viceversa questo nonno è lo zio di eh di eh Isidoro. Quindi questa è la ehm insomma l'analisi che va fatta vuol dire che Isacco è lo zio di Isidoro. Ehm diciamo che è davvero importante e fondamentale che imparate a leggerle in modo opportuno. Vedete io non ho usato né carta né penna ma concentrandomi sul fatto che che rapporto c'è tra Ilario e Irene sono cugini. Eventuali fratelli di Ilario saranno cugini di Irene o eventuali fratelli sorelle di Irene saranno comunque cugini di Ilario. Chi è il nonno del figlio di Irene è il papà di Irene. Il papà di Irene è e per l'appunto cioè i genitori di Irene e Ilario sono zii di eh rispettivamente Ilario e Irene. Quindi questo eh Isacco, papà di Irene, è zio dei fratelli di Ilario compreso Ilario. Quindi Isacco è lo zio di eh di Ilario. Cioè volendo eh è lo zio di dei fratelli di Ilario quindi anche di Isacco. Quindi questo volendo eh come dire mhm eh per mostrarvi in modo più ordinato come ho proceduto. In queste domande è fondamentale proprio imparare a leggere in modo opportuno. Poi c'erano altre domande di questo tipo in cui andavano disposte dalle persone tipo la nuove ad un tavolo rotondo siedono a Adele, Bea, Chiara, Adelia e Dario e come insomma vanno vanno sistemate queste persone. Anche su queste c'è qualche tecnica da adottare per farli a mente. Oppure dei silogismi come Rudy fa il venditore, Amedeo è lo quace, chi fa il venditore è lo quace. Quindi considerando la prima e la terza da Rudy fa il venditore, chi fa il venditore è lo quace, posso dire che Rudy certamente è lo quace. Però attenzione che la domanda chiede quale non rappresenta una ehm conclusione corretta. Quindi dire che Rudy è lo quace la devo togliere di mezzo perché questa è giusta. L'ho ottenuta applicando la proprietà transitiva alla prima e alla terza delle premesse che sono eh che sono indicate. Eh poi mh la ci dice non si può escludere che Amedeo faccia il venditore. Anche questa è giusta. Perché è giusta? Perché se vedo cioè analizzando la seconda Amedeo è lo quace e la terza i venditori sono lo quaci, quando due frasi hanno lo stesso secondo termine, ci possiamo esprimere in termini di possibilità con i primi. Cioè con il primo termine è Amedeo, il primo termine di quest'altra frase è il venditore. Quindi io posso dire Amedeo è probabile, è possibile che possa fare il venditore. Quindi dire non si può escludere che Amedeo faccia il venditore è anche questa assolutamente corretta. La tolgo di mezzo, quella certamente sbagliata deve essere la B, giusto per mostrarvi un altro esempio in cui io praticamente non ho scritto nulla, ma ho ben chiari in mente degli schemi di ragionamento. Cioè se il secondo termine è uguale mi posso esprimere in termini di possibilità con i primi termini, eccetera, eccetera. E così c'erano un po' di domande di questo tipo nella prova del precedente ciclo, del precedente corso concorso SNA. C'erano anche alcune domande di logica verbale con ragionamento verbale, significato dei termini, eccetera. Tipo chiediamo alla dottoressa Argelli, vediamo se la dottoressa sarà un'esperta di fiori, chissà quanti fiori verrà la zio Giorgio, zio Massimo, Albrelli. No, nessuno e non sono esperta di fiori, ma proviamo. Tanto ormai la mia reputazione di quiz è rinomata. Qual è il termine intruso tra zigna, origano e azalea? No, mi ripeta, prof. Qui, questa qua, 12. Non so se rischia. Ma io vedo il testo, non la vedo, vedo il testo del bando. Non vedo lo suo schermo. Ma a casa lo vedono nel mio schermo. Chiediamo con la regia. La regia? Ma quello secondo me... Si è addormentato? O sta in bagno? Stai sfruttando un bisogno fisiologico impellente? Prof, non scadiamo in certi argomenti, su. Un bisogno fisiologico impellente? Ho usato una forma molto elegante per esprimere una cosa che succede a tutti. No, è giusto per capire se a casa vedono il mio file o meno. Regia! È morta. Niente, il regista è sparito forse. E da casa? State vedendo i quiz che stiamo mostrando? Magari ci può rispondere qualcuno in chat? Non vediamo lo schermo, confermo, no. Perché a me tutto quanto... Professore, provi a disattivare e riattivare lo schermo. Adesso possiamo... Sì, dovrebbe funzionare. Lo vedo adesso. Sì, adesso sì. Ah, perfetto. Allora, dottoressa, che ci dice? L'origano. Brava. Eh, ma perché? In base a quelle ragionamenti. Ho fatto due ragionamenti, probabilmente nessuno dei due è quello giusto. Non contiene la zeta? No, va bene. Non fa i fiori? Beh, anche questo è... È una pianta aromatica, lo vengono. È una pianta aromatica, sono piante ornamentali, zigna e azalea. Però, tanto per dire, insomma, hanno messo anche domande di questo tipo, dove, insomma, non serviva a scrivere nulla. Quindi si sono basati un po' sul brane, un po' sul ragionamento verbale, un po' anche sulla logica deduttiva. Questo ultimo, ultimo bando della... dell'ultima preselezione del corso concorso. Nel precedente c'erano dei quiz un po' più particolari in termini di formulazione, un po' più strani, almeno secondo alcuni, tipo questa domanda che dice i numeri nei riquadri della tavola che segue risultano da una particolare associazione logica tra i numeri riportati rispettivamente nelle intestazioni di riga e di colonna. Individua la regola caratterizzante della tavola, stabilita quale delle tre alternative può essere opportunamente collocata in uno dei riquadri vuoti. Ad esempio, questo 412, come lo otteniamo? 412 si trova nella colonna indicata dal 12 e nella riga indicata dal 4. per questo 412. Oppure questo 1.083, come lo otteniamo? Nella riga contrassegnata dal 10 e nella colonna contrassegnata dal 83. Quindi la regola sostanzialmente è questa. La prima parte del numero indica la riga in cui si trova il numero, l'ultima parte del numero indica la colonna in cui si trova il numero. Dobbiamo capire quale dei numeri riportati nelle risposte può essere collocato all'interno di questa riglia. Ad esempio, partendo da 511, io inizierei a collocarlo, visto che inizia con 51, nella riga con il 51. Però poi, oltre al 51, c'è ancora un 1. Quindi c'è una colonna che è indicata dall'1? No. E di qui capisco che io il 511 non lo posso mettere in nessuna delle celle che ci sono nell'ultima riga. E quindi lo tolgo di mezzo. Poi vado al 447. Il 447 inizia con il 4. Quindi dovrei collocarlo nella riga contrassegnata dal 4. E in quale colonna, cioè in quale cella di queste, in quella poi dove c'è il 47. Così ho 4 che indica la riga e 47 che indica la colonna. E quindi questo è quello giusto. Quindi questo per dirvi come. Hanno assegnato anche delle domande, insomma, formulate in modo un po' diverso rispetto a quelle che tanti si aspettavano. Tipo l'altra domanda che ha creato particolari difficoltà è stata questa domanda, è quella che qualcuno ha indicato come mastermind, dove dice sostanzialmente la domanda, esaminando le disposizioni dei numeri da 1 a 4 e i valori nei riquadri accanto, che indicano quanti numeri si trovano nell'esatta posizione di una combinazione nascosta, individuate tra le tre proposte, la combinazione dei numeri corretta, tenendo conto che lo stesso numero non può presentarsi più di una volta in una stessa combinazione. Insomma, cosa vuol dire? Vuol dire che questo 2 che c'è nel riquadro indica che la risposta corretta, supponiamo di analizzare la risposta A, non sappiamo se è quella corretta, ma se questa fosse la risposta corretta deve soddisfare questi numerini che ci sono all'interno dei riquadri. Che significa soddisfare? Ad esempio, la risposta A, la scrivo qui, è 1, 2, 4, 3. Allora, io la risposta A, i numeri della risposta A, li devo confrontare con, ad esempio, il primo dato che c'è, con questa prima colonna, 1, 3, 4, 2. E mi devo chiedere quanti numeri corrispondono, cioè il primo numero nella risposta A è 1 e nel primo dato è comunque 1. Quindi questa è una corrispondenza. Poi il secondo numero sarebbe 3, 2, visti in un colonna. sono numeri differenti, quindi nessuna corrispondenza, lo tolgo di mezzo. 4, 4, una corrispondenza e quindi siamo a 2. Poi 2, 3 sono due cose diverse. Quindi è giusto dire che ci sono quel 2 che esprime le corrispondenze, cioè numeri posizionati nella stessa posizione, nella posizione corretta. Però per essere giusta la risposta A, le corrispondenze ci devono essere soddisfatte le corrispondenze con tutti i dati, anche con questo secondo dato, anche con questo terzo dato. Cioè, analizzando il secondo dato, vediamo, abbiamo 3, 1. 3, 1 sono numeri differenti, quindi nessuna corrispondenza. Poi 2, 2 e 4, 4, queste sono dalle corrispondenze. Quindi abbiamo due corrispondenze come indicato nell'altro riquadro. Quindi diciamo che la risposta A soddisfa anche il secondo dato, ma per essere questa la risposta corretta deve soddisfare anche il terzo dato, ovvero risposta A, la scrivo qui sotto, 1, 2, 4, 3, ci sono due corrispondenze come scritto nell'altro riquadro, analizzando 4, 1 sono diversi, 1, 2 sono diversi, 3, 4 sono diversi, 2, 3 sono diversi. E allora questo mi fa capire che la risposta A, per quanto soddisfi il primo e il secondo dato, visto che non soddisfa il terzo dato, non può essere questa la risposta corretta. E procede in questo modo con la B o con la C per vedere insomma quale di queste due poi soddisfa tutti quanti i dati che sono contenuti nel quiz. Questo per mostrarvi insomma come, che tipo di quiz hanno dato in due selezioni diverse, in due preselezioni diverse. Quindi oggi la domanda che mi hanno fatto insomma dopo questa breve presentazione, che tipo di quiz ci possono dare? Potrebbero darci anche dei quiz numerici, sequenze numeriche, eccetera. Guardate, indicazioni precise non le abbiamo. Certo, possono dare delle indicazioni numeriche, ma possono dare anche un quiz come il 23, che è un quiz che si basa sulle relazioni di ordine di grandezza. Cioè noi abbiamo visto solamente delle corrispondenze in termini di posti, non ho svolto dei calcoli. E domande del genere in realtà poi le hanno assegnate anche nell'ultimo bando, quello dell'ottavo corso-concorso, dove vi dicevo una domanda come questa qui, ad un tavolo rotondo siedono Adele, Bea, Chiara, Deglia e Dario, è comunque una domanda in cui bisogna ordinare dei dati. Non abbiamo fatto dei calcoli, vanno ordinati dei dati. E purtroppo anche su queste domande sono importanti delle strategie per capire come ordinare le varie informazioni. Molti hanno bisogno di carta e penna, si possono fare senza carta e penna, sì. Però per fare questo, insomma, vi invito poi a formarvi in modo opportuno. Non so se, come preferite, con dei volumi o eventualmente con dei corso. Io ho un corso che è partito da un paio di settimane in cui sto trattando proprio questi argomenti. Va bene, dottoressa, ci sono altre domande? Prof, al momento no. Vediamo 30 secondi, un minuto, perché la gente un attimo riprende il controllo. Allora... Ne posso approfittare per chiedere, per dire una cosa, non mi ricordo se lei l'ha già citata all'inizio del suo intervento questa mattina. ci chiedevano uno o più partecipanti le scorse settimane, che non so se sono collegati anche oggi, su concorsi nella scuola dell'infanzia nel centro sud. Io non mi ricordo se lei ha citato, comunque ne approfitto per dirlo, il comune di Bari, nella gazzetta ufficiale pubblicata ieri, ha indetto un concorso per 20 posti da insegnante nella scuola dell'infanzia. Sì, si è nato velocemente. Poi ci sono altri, vedo che ultimamente diversi enti locali, medio e grandi, un altro esempio è il comune di Milano, hanno aperto delle graduatorie, magari non mettono il numero dei posti, ma aprono le graduatorie che durano poi, insomma, diverso tempo, e quindi se uno vuole in qualche modo intraprendere quel tipo di percorso lavorativo, insomma, ne stanno uscendo diversi. Allora, nel frattempo riscrivono qualcosa, giusto per dire, dove trovano un po' di commenti su questa tipologia di domande? Ad esempio, noi abbiamo pubblicato il volume per SNA, quindi chi volesse, insomma, troverà il volume con i quiz, e trovate anche un po' di quiz di logica svolti, e, oppure ancora, se volete, noi abbiamo proprio come Maggiore un corso online, lo stavo cercando qui, sulle tecniche di risoluzione senza carta e penna, questo che vedete qui in basso, tecniche di calcolo senza carta e penna, nel caso in cui, insomma, si decida di assegnare anche alcune domande dove è necessario formulare dei calcoli, per avere una formazione più completa su tecniche mirate. diciamo, queste tecniche di calcolo, ovviamente, fa riferimento in modo particolare alla logica matematica e alla problem solida. Nel bando SNA non era indicata in modo preciso, però quando si parla di logica deduttiva, dovete aspettarvi di tutto. Possono essere solamente domande di ragionamento logico-verbale o su silogismi, eccetera, non escluso che possa esserci anche qualche domanda di logica matematica. È già accaduta in tanti concorsi dove, nonostante nel bando non ci fosse proprio la postilla logica matematica, però comunque hanno segnato anche quiz di logica matematica. Perché? Perché la dizione è logica deduttiva, la logica è, come dire, è deduzione, altrimenti non sarebbe logica, sarebbe, insomma, altro. Quindi dire logica deduttiva significa dire qualunque argomento di logica. Ecco, bravo, prof, ha fatto bene a precisare, visto che alcune volte mi è stato fatto notare questa cosa. Quando magari abbiamo inserito certi quiz o nei libri o nel simulatore di logica matematica, mi è stato, insomma, chiesto perché erano stati inseriti quando nel bando veniva chiesta solo logica deduttiva. Bene. E così abbiamo risposto. Al momento, prof, non ci sono domande, quindi li abbiamo atterrati tutti. E se non c'è altro, io la ringrazio molto, ringrazio il nostro regista e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo per delle novità succulente. Va benissimo. A presto, grazie. Grazie a voi, ovviamente, a Federica e Alberto. Grazie, grazie che ci ha seguito anche oggi. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.